Il comparto della ristorazione affronta un nuovo lockdown, questa volta indotto e non imposto. Il settore entra così in stato di agitazione permanente, chiede adesioni e condivisioni da parte di tutti gli operatori con la finalità di aprire un dialogo con le istituzioni e pensare insieme a forme di mobilitazione pacifiche. Abbiamo annunciato uno stato di agitazione permanente dei ristoratori uniti Puglia che nel prossimo step porterà alla convocazione degli stati generali della ristorazione dell'Oreca in tutta la regione. Per tale motivo attendiamo anche l'adesione di moltissimi altri nostri colleghi. Siamo già un gruppo piuttosto consistente, deciso e determinato a tenere in piedi il nostro settore che riteniamo strategico sia dal punto di vista economico che sociale ma anche culturale. Se non si interverrà con misure adeguate, dicono, seguiranno inevitabili licenziamenti. Non si può aggiungere debito al debito. Dopo un dicembre deludente, tra paure e disdette, con ristoranti vuoti, frigoriferi pieni e tutte le spese da pagare. Ancora una volta abbiamo deciso di autoconvocarci in tutta la regione e di individuare quelle che sono le criticità e eventuali risposte che noi ancora da due anni a questa parte stiamo aspettando. Noi stiamo attendendo ancora ad oggi un provvedimento definitivo che autorizzi le nuove casse integrazioni dal 1 gennaio, ma a questo punto vorremmo degli interventi molto più decisi, strutturali, affinché qualcuno si faccia carico di un numero veramente molto consistente di lavoratori che riguardano il nostro settore. Il settore della ristorazione ha rappresentato e vorrebbe continuare ad essere un riferimento essenziale per l'economia del bel paese e della Puglia in particolare, sia per la filiera agroalimentare oggi in profonda crisi di liquidità che per il comparto turistico.